Un progetto europeo che riguarda il contratto di fiume, in questo caso l'esperienza pilota per la provincia di Teramo sarà sul Tordino e il Vezola. Esatto, oggi beneficiamo, presentiamo questo nuovo progetto comunitario che abbiamo vinto a valere sul programma Interreg 4C. La cosa innovativa qual è? Che puntiamo sul river contract, cioè il contratto di fiume. Il problema Tavi con il nostro territorio, ma soprattutto il territorio italiano, è che oggi non si sa chi sul fiume ha competenze, tra comuni, province, regioni, governo, oggi non si sa chi comanda sul fiume. Quindi noi vogliamo mettere insieme tutti questi soggetti su un tavolo e stilare e stipulare appunto un contratto di fiume. Questo è un progetto che è stato definito ambizioso all'Unione Europea, per questo chiaramente è stato finanziato e questo modello che sperimentiamo sul Tordino, perché in collaborazione chiaramente anche con il Comune di Teramo, vogliamo poi replicarlo su tutti i fiumi, ma diventerà un progetto replicabile su tutto il territorio italiano, quindi sperimentale e innovativo. Quanto c'è di finanziamento? Sono 1.300.000 euro, di cui la quota parte è di circa 150.000 euro per la provincia di Teramo, che sarà destinata appunto all'attività di progettazione, di relazione di questo programma di fiume, di questo contratto di fiume. Si parla di piani di miglioramento frugale, quali saranno i piani da attuare sul Tordino e sul Vezola? Sul Tordino e Vezola, ma su tutti i fiumi, ripeto, sul Vomano, sul Salinello, tutti i fiumi che riguardano la provincia di Teramo, ma soprattutto capire chi comanda, perché il vero problema nostro è capire chi oggi ha competenza sul fiume. Con questo programma noi vogliamo risolvere questo grande problema, questo grave dilemma.